Il Benevento si è mosso ufficialmente con il Perugia per portare in Campania il tecnico Fabio Caserta. Il padrone del Grifo, Massimiliano Santopadre, avrebbe chiesto un indennizio di 500.000 euro o eventuali contropartite tecniche per liberare l'allenatore calabrese con le parti che si aggiorneranno nelle prossime ore per trovare un accordo che a questo punto pare scontato. Sarebbe un divorzio doloroso per il Perugia che era intenzionata a dare continuità tecnico-tattica alla squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. A Pian di Massiano intanto cominciano a circolare i primi nomi per il possibile dopo Caserta. Stando alle ultime indiscrezioni sono attenzionati i tecnici di Renate e Alessandria, Aimo Diana e Moreno Longo, ma anche Roberto Stellone, reduce dalla difficilissima stagione con l'Arezzo retrocesso in Serie D. Il nome di Longo sembra però poco credibile visto che l'attuale tecnico dell'Alessandria ha conquistato con i grigi la qualificazione alle Final Four per andare in Serie B e inoltre è legato alla società delle patronne di Masi da uno contratto triennale. Rimangono probabili invece i nomi di Diana con il suo Renate che è stato eliminato ieri sera dai play-off e di Stellone in cerca di riscatto dopo una stagione negativa. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno quindi decisivi per il futuro della panchina del Perugia. Grazie.